Ciao a tutti da Olturoso Guardo, benvenuti a questo nuovo appuntamento oggi vi voglio fare un unboxing e da tanto tempo che non ne faccio uno mi sono ordinata una cosa da Amazon che mi serviva e l'ho aperta per controllare se è tutto a posto se era tutto in ordine ma ve la voglio fare vedere a voi e di una cosa che vi ho parlato tempo fa una cosa che riguarda la GoPro ma tutto questo nel dettaglio vi spiego e vi mostrerò tutto dopo la sigla qui come ho detto già all'inizio oggi vi faccio un unboxing che da tanto tempo che non ve lo faccio su una cosa che riguarda la GoPro di cui avevo già parlato tempo fa ma prima di iniziare come sempre vi ricordo iscrivetevi al canale attivate la campanella datemi un like e vi ricordo anche che oltre lo sguardo si trova su Facebook su Instagram e con la rubrica viaggiamo sono su TikTok siamo su TikTok detto questo partiamo col pacco allora questo pacco ordinato da Amazon poi vi metterò comunque il link in descrizione e riguarda accessori della GoPro mettiamo da parte il pacco ecco arriva questa bellissima valigetta molto carina la marca non so se riesco a pronunciarla bene ma si chiama Soft Digities comunque vi metterò come ho già detto il link in descrizione se volete acquistarla anche voi quindi abbiamo la valigetta che può essere tranquillamente portata in giro e voilà voilà quanta roba ci abbiamo chiaramente oggi non vi faccio vedere non vi farò vedere tutto nel dettaglio farò un video dedicato dove vi faccio vedere anche come utilizzarli come utilizzare questi accessori ma intanto vi dico cosa abbiamo abbiamo tutti i tipi di adattatori adattatori di tutti i tipi di tutti agganci per mettere sulla bicicletta vi annuncio qualcosina anche quello per la macchina guardate un po' c'è da precisare una cosa ci sono due versioni di questi di questi accessori universali per GoPro anche perché questi non sono proprio per GoPro Ero 7 sono io possiedo la Ero 7 ma questi sono compatibili anche sulla 8 e su quelle precedenti quindi sono anche se non sbaglio sono compatibili anche con action cam della Xiaomi quindi non è proprio dedicata alla GoPro comunque di questi pacchetti diciamo di questo tipo di accessori con la valigetta esistono due versioni 50 in uno quindi 50 pezzi in una valigetta e poi c'è quella 30 in uno quindi 30 pezzi dentro sempre una valigetta chiaramente questa è la valigetta più grande ho scelto questa per il semplice fatto che c'è più roba e soprattutto a volte mettono anche in offerta non costa tanto comunque se non c'è l'offerta ma diciamo che si aggirano dalle 30 massimo 40 euro però ne vale sempre la pena perché avere tanti accessori a portata di mano per poterla utilizzare è veramente una cosa bellissima bella bella quindi questo è un video dove diciamo vi mostro questa valigetta vi faccio vedere cose che ho acquistato ma vi farò un video più in là più dettagliato di come di come utilizzare pezzo per pezzo o comunque vi farò vedere gli accessori nel dettaglio detto questo spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato molto utile e come sempre ciao alla prossima con lo sguardo ciao ciao Grazie per la visione!